bentornati qua sul canale sulla carriera giocatore dfc 24 con il nostro amato tiagi che è arrivato a 61 dove roll e siamo giunti in inghilterra nel crew alexandra e non lo so come andrà io onestamente ho tanta paura ma intanto partiamo da sostituti intanto e entriamo all'ottantaduesimo non so a far cosa a questo punto perché con le azioni salienti penso che ma ho messo le azioni salienti no ho messo vabbè tanto alla fine c'è veramente poco tempo perfetto perfetto era quello che si voleva guarda vabbè andiamo a simularla perché perché ho sbagliato anche solamente a entrare in quel modo volevo fare solamente le azioni giocabili e invece ho sbagliato perché comunque siamo partiti già un a zero mi scende anche la voglia no purtroppo perdiamo un po di di punteggio e rimaniamo lì nell'orbita dell'essere un sostituto allora ci alleniamo prendiamo un po di punti ma siamo ancora sostituti attività cosa possiamo fare di bello vabbè prestazione opaca sono appena arrivato ho fatto dieci minuti sempre ad accollarvi uh acquista un impianto hi fi di alta gamma ebbe ebbe che ce lo facciamo mancare rimaniamo sul conto corrente con tipo 859 euro ma questo è un altro discorso contro il dunda fc entriamo al cinquantottesimo e che va già un pochino meglio rispetto all'ottantaduesimo che che non si riesce veramente a far nulla in quei pochi minuti vediamo cosa ci fanno fare se riusciamo a fare qualcosa di decente ok subito così il cross la palla ce l'abbiamo noi non siamo proprio i crossatori migliori al mondo ma ma andiamo da soli mamma mia che zuzzeria ragazzi ma cosa ho appena visto ma cosa ho appena visto ma perché giochiamo tipo esterni domanda è così per di vai ti ho visto che assist no no l'assist per long era meraviglioso lancio lungo il solito baggatissimo lancio lungo che quest'anno quest'anno c'è molto spesso capita bellissima la palla ti agi mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia che che mestizia oh porca miseria è dura è durissima sì però che rischio ecco o noi non giochiamo più adesso ormai ormai è finita siamo all'ottantanovesimo penso che ormai sia andata l'unica sarebbe prenderci un pareggio che non sarebbe affatto male a grip it però porca miseria calma 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 bravissimo coni bravissimo bravissimo pareggio pareggio purtroppo non non riusciamo a incidere e vabbè comunque abbiamo avuto qualche occasione buona interessante ma non siamo riusciti a a portarla termine purtroppo anche per nostri problemi tecnici ma dettagli siamo abbastanza scarsetti ancora allenamento volevo fa tutti però io posso fa tutti ho sbagliato ai tutti quanti purtroppo non non si aumenta siamo ancora sostituti lo stipendio c'è lo stipendio e i soldi non stanno aumentando entriamo al 58esimo che siamo sotto 1 a 0 contro l'excelsior squadra di rotterdam da quanto posso leggere e perché fa così la game capture perché fa così quando switcha cambierebbe tutto e aprirebbe nuovi scenari molto male molto male è un po' problematica la cosa che succede ma che ca... what the fuck ma che è successo non gliela fatta battere vabbè a noi va bene lo stesso è per carità di dio allora siamo in attacco ti agi spacca sta porta no no non l'ha spaccata non l'ha spaccata eccelsior in attacco attenzione attenzione stiamo già perdendo è però però insomma no eh fortuna che questo non si è girato e non ci ha provato se no era gol era gol netto sempre loro in attacco e noi a guardare porca miseria a noi a guardare vabbè che bello no 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 richards la para attenzione tocca a noi è cross lungo cross lungo attenzione chissà è buggato è buggato mi come come piace a noi è però mamma mia ti agi che che stop terribile terribile veramente contropiede o ti agi ti vedo è vai ti prego vai fa pure la finta non ci credo ma cosa fai tu maledetto ma tu sei un maledetto ma perché ti sei messo in mezzo ma ce l'hai con me eh ma non si può così dai ti hai messo in mezzo palesemente cioè io non c'ho parole non c'ho parole ma cosa sto vedendo contropiede ma come no ma come no i contropiede raga ma i contropiede ma scusatemi eh se lo ho mangiato i contropiede c'è questa cosa che mi è mancata vabbè ti agi purtroppo sta avendo un po di problemini ad ambientarsi nel suo nuovo paese in inghilterra molti problemi ma ma cercheremo di risolverli intanto siamo titolari il che è già qualcosa e in più andiamo a 62 di overall che inizia farsi interessante inizia a farsi interessante inizia anche inizia anche il campionato tra l'altro inizia pure il campionato che onestamente io non so come andrà speriamo bene speriamo me lo auguro con tutto il cuore veramente perché è assitua è veramente complessa è veramente complessa non stiamo rendendo per niente stiamo avendo problemi ma col tempo magari ci si ci riusciremo ad abituare ma nel frattempo bisogna bisogna combattere queste difficoltà e quanto veloce questo esci esci mamma mia contropiede contropiedissimo presi mamma il passaggio è comunque o raga cioè è ingiocabile ma è ingiocabile con questi giocatori bravissimo hofford bravissimo hofford oh finalmente tocca a noi al 59esimo siamo in attacco bellissimo tutto molto no ma come il rigore ma come il rigore ma come ma non mi pare educazione come questa oh beauty man e gliela para e gliela para beauty man l'uomo chiamato bello l'uomo chiamato bello che brutta cosa eh ma non c'è nessuno no ti agi dai un po di cattiveria ce la possiamo ammette ma perché qua veramente diventa difficile se no attenzione parla per noi aksuna vai vai provaci niente rose rose ci ci priva di questa gioia che onestamente sarebbe stata incredibile ma purtroppo non va e si inizia questa stagione con un pareggiotto purtroppo abbiamo avuto un'occasione ma non era così così come dire così grande perché eravamo mal mal messi su quel tiro nel senso che eravamo troppo depilati rispetto alla porta e non possiamo aspettarci da un giocatore 62 di overall un tiro a incrociare e lì cioè sarebbe praticamente impossibile allora partita siamo contro in north county in north county anche loro hanno un punto ok tra l'altro la nostra squadra è qualcosa di veramente agghiacciante ma ma vabbè ma vabbè non facciamoci caso perché mi potrei veramente deprimere quantomeno quantomeno non c'è più quella musichetta indiana che già è qualcosa anche se devo dire che la musichetta indiana non era più così male era abbastanza cringe ma ci stava il cringe che ci sta il cringe che ci sta eccoli si invorano subito in solitaria c'è un difensore nostro che può prendere sto pallone langstaff bravo contropiede cunei presi ma come è scarsa questa squadra mamma mia non riesco a giocare cos' proseguire ti agi non molla non molla non molla ma noanno peccato peccato era buona era buona Era buona Sembrava intrigante Attenzione che la passa sicuramente di vicino E vabbè colpo di tacco anche no No ma dammi contropiede Era più contropiede questo Che quello di prima Onestamente Cioè Vabbè Vai a capì Vai a capì Allora punizione per loro Bravissimo Devisi No ma Ma perché Danni contropiede quando ripare Non c'è un motivo Contropiede ma sì perché no così De botto Langstaff ancora Grande Langstaff Ma perché gliela fa battere Ma perché Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sì ma noi non abbiamo mai Qualche occasione solitaria No eh A noi no A noi non gli va Ma no Ma Richards Ma che parata è questa Che parata Che tuffo è Ma inguardabilissimo Veramente inguardabile Contropiede Abbiamo un'occasione Abbiamo un'occasione Ma ti agi Non scatta Ti agi Devi scattà Mamma mia Però Mamma mia Qua mancano proprio le basi del calcio C'è Ma manca tutto Manca Ma no ma Altro contropiede Io non ce la faccio più comunque Ma non mi capiscono In Inghilterra Vai Vai ti agi Ma no ma no Ma scatta Ma corri Ruba sto pallone Ruba lo sto pallone Niente Proprio una roba Mamma mia Che fatica Qua in Inghilterra Si fa sentire La difficoltà Si fa sentire Si fa sentire Agente giocatore No 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 Ma Eh si La League One Certo Faccio fatica qui Il League Two La League One Sarebbe Sarebbe anche troppo Per noi Carabao Contro Lo Swansea Lo Swansea Allora Riusciamo ad arrivare Ah no eh A 63 Non ci arriviamo Intanto il pad È scarico Ma vabbè Ma vabbè Se la fa piacere Siamo anche un po' stanchi Ah Uno slot vuoto Uh C'è un'altra cosina Che ci metto Eh Non lo so Effetto a tiri Potenti Più velocemente Con una maggiore forza Questo mi piace Visto che abbiamo un tiro Che è veramente Una mozzarella Morta E direi che Ci può stare Questa cosa Potrebbe Potrebbe aiutarci A fare qualcosa Di buono No perché Veramente È palesemente Complesso Allora 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 Questa penso che sia dura Io non so dove stia Lo Swansea Onestamente Cioè anni fa Lo Swansea Era anche una bella squadra Non so dove sia finita Non so dove sia finita Non ne ho idea Non so se sia in In Ligue 1 O No che è Ligue 1 Scusate Non è che si dice già Non mi ricordo più Non mi ricordo più Sì Ligue 1 Giusto Dovrebbe essere Se non sbaglio Non lo so dove si trovi Lo Swansea Comunque è ingiocabile Con sta squadra È ingiocabile Ragazzi ma Ma sono veramente Scarsi Porca misera Che difficoltà Che ho Muove gli giocatori Cioè È incredibile Ma sarà fuori gioco? No Bravo Davis Rigore Rigorissimo Rigorissimo Ma Ma cavati da lì Andiamo sta prima gioia Al buon Tiagi Su Diamogli sta prima gioia In terra inglese Ti prego Tiagi Ma porca Ma vacci Ma vacci Ma come niente male Ma cosa dice quello lì Niente male cosa Ho preso il palo Ma perché non riesco più A far gol Nei rigori Becco i pali Le traverse Domanda Cioè comunque È veramente amara Questo dibutto In terra inglese È veramente amaro Stiamo giocando Un male Pure il rigore Sbagliamo Perché Tiagi In difesa Poi Lo troviamo In alcuni posti Che non dovrebbe essere Comunque Non vorrei dire Ma Boh A volte Non mi capacito Cross lungo Questa è buona Oh ma Oh manco Gli stop Però Aiuto Che faccio Tiriamo al centro Va Cross al centro Che schifo Ma che palla persa Ma non è vero Ho visto bene Sì Tiagi Ti prego Ti prego Ti prego Finalmente Tiagi è arrivato A fare un gol In Inghilterra Finalmente Ma che è successo Gli astri Si sono incontrati In Karabau Tiagi Segna E chissà Se ci porta Al turno Successivo Però prima Di risultare Un attimo Dove ancora Finire la partita Con molta calma Bravissimo Ma dammi Sto contropiede Ma hai detto Dammi sto contropiede Dai però Ma ti pare Ma ti pare Calcio d'angolo Per lo Swans È dura È dura È complessa Bravissimo Tiagi Comunque Fisicamente Oh Oh Si arriva Palla persa Da mezz'ora Eh Dai Che si passa Il turno Grazie A un nostro Gol Tiagi Tiagi Specialista Delle coppe È diventato Specialista Delle coppe Così dal nulla Gli è presa Questa cosa Prende anche Il suo bel premio Di giocatore Della partita E Non posso Fa nulla Io qua Mamma mia Non posso Neanche fare Gli investimenti Perché Siamo poveri Che Siamo poveri Siamo poveri Tanto poveri Tanto poveri Ora però Arriva il momento Di rifarsi Anche In campionato Sarebbe ora Intanto si sale A 63 Doverall Sta lentamente Diventando Un giocatore Quasi Mediocre Quasi Mediocre E Andiamo Andiamo Tra l'altro Siamo Uno dei migliori Della squadra Come overall Generale E questo Fa capire Fa capire Un po' Il livello Della squadra Un po' Basso Un po' Basso Leggermente Ma Ma vabbè Ragazzi Ci pigliamo Questi Tre punti Ross lungo Di Grismith No 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 Quello Bangato No No So che loro Richard vai Cioè loro Lo stoppare Noi no Contropiede Che non è mai Un contropiede Questa casa mia Cioè che contropiede è Oh Oh E' scattato Aksuna E' scattato Cosa fai Vabbè Manco lo sa lui Cosa fa Manco lo sa lui Un'altra occasione Per loro E noi invece Stiamo lì a guardare Stiamo lì a guardare Impassibili E tristi No Mamma Richard Ma sei bravissimo Che porterone Che abbiamo Raga Abbiamo un portiere Abbastanza Scandaloso Onestamente Ma Ma vabbè Ma vabbè Ma vabbè Ma ancora Un loro Contropiede Ma non è Quando è che Giochiamo Domanda No No Bravissimo Oh Tocca a noi finalmente Al cinquantaseisimo Mezz'ora No Cinquantasei minuti Sono passati Abbiamo anche noi La nostra occasione Mamma mia Cosa ho appena visto Ma quanto siamo scarsi Oh Porca miseria Mi viene Veramente da piangere Beh Mi piace di testa È una bestemmia Bravi Molto Molto bene Veramente era nostra L'occasione Arbitro Io Non vorrei di Gioco Anzi Più che l'arbitro Sarebbe nostra L'occasione Perché stai Facendo Andare avanti Gli altri Domanda del giorno Arbitro Cioè Gioco Ehi Fuori dalla zona Che cosa vuol dire Fuori dalla zona Scusatemi Sì ma non era mai Palla loro Perché non ha interrotto Il gioco Ho perso la palla Basta Non funziona così Questa modalità Ti agi di testa Comunque non si può Non si può vedere Cosa fanno Questi due Ma basta Con sta storia Se l'azione è mia E perdo palla Si resetta Ma che cavolo Quando tocca agli altri Non funziona così Però eh Come sta funzionando Ora Maledetti Ma che Ma che fa andare avanti Ancora Ma comunque Palla persa Ora si Ora si Giustamente Dopo mezz'ora di gioco Palla persa Va bene Va bene Fanno le regole Come voglio loro E' meraviglioso Richards Fa un intervento Eh Purtroppo in campionato Non decogliamo In Carabao Si In campionato Proprio Non c'è modo Di far nulla E' una roba Aggacciante Non riusciamo Veramente A far risultato Eh Piagi ancora A secco In campionato Ed è abbastanza Imbarazzante Abbastanza Si Allora Signora tutto Passaggio corto Migliora anche Velocità Scatto 74 Che non è mai vero Ma vabbè Non ce ne siamo accorti Quanto meno Almeno io non me ne sono accorto Poi non so Eh Se qualcuno Se ne è accorto Mi faccia sapere Perché sono curioso Allora Andiamo dai Andiamo Tanto ormai qua La vedo veramente Dura Tra l'altro Siamo contro L'MK Dons Squadra che ho Portato qua Su FIFA Da su Si Su FIFA 22 Mi sa che si Allora Feci la carriera Con l'MK Dons Beh ricordi Beh ricordi Gran bella carriera Divertente Purtroppo Purtroppo Non abbiamo vinto niente In quella carriera Ma Ma tanta roba Mi ricordo ancora Fraser Collins Tantissima roba Raga Stradivertente Per quanto complessa Per quanto complessa Perché comunque C'è un partito Dalle leghe inferiori Tipo la LICCHU Infatti E fu un cammino Molto tortuoso Però Solo per quello Appagante No? Perché comunque Ti appaga È una bellissima cosa Infatti Quando Quando c'è la squadra Per la carriera La squadra inglese È sempre una bella opzione Perché Parti dal bassissimo Ti fai tutta la carriera Con calma È Intrigante È molto Intrigante Sì però Ragazzi Vorrei anche Io un'occasione Cioè Non sempre Nel MK Dons E ruba Sto pallone Contropiede Ma contropiede Non mi hai fatto Fa nulla Cioè Ho spinto X Non me l'hai passata Grazie Gentilissimo Bravissimo Bravissimo Che intervento difensivo Spettacolare Calma È nostra Spazza No niente Non so perché Ma L'ha fatta andare Lui Tranquillo Tantanto c'è il portiere Che me frega Peccato che L'ho mai subito un gol No non c'è Richard Che fine Ha fatto Richard Attenzione Attenzione Diagi Stop Oh Uno stop Quasi decente Sì Vabbè Fortuna che era Veloce Cioè Veloce Abbastanza Veloce Ma Non mi sembra Non mi sembra Che sia così veloce Onestamente Anzi Anzi Boots Questo si chiama Occasione di cross Oh raga Ma dove vai Ma dove vai Ti agi Oh Guardalo No No Ma poi c'era C'era l'angolo Perché non me l'ha fatto fa Ma perché la difensore sta là Domanda Ma porca Ma 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 non ci credo Ma non ci credo Ma come l'ha slisciata la palla Questo Ma come l'ha slisciata Ma va Ma va Ma va Dai Non ci credo No Ma che Ma che delusione Ma che delusione Ragazzi Ma che delusione Ma non è possibile Cioè Non è possibile Se il rigore Che la sliscia così malamente Non me l'aspettavo Assolutamente no Vabbè Andiamo a farci l'ultima di oggi Sempre in campionato Che si è messi come Come il porco Perché Si è messi Ma che 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 parla di sottofondo Scusate Ma cos'è Si è messi male 22 esimi Non siamo ultimi Ma siamo terzultimi Mi sa Vero Siamo terzultimi Siamo terzultimi E siamo contro La undicesima In classifica Il tram re Il tram mer No Il tram re Come si chiama Adesso non l'ho ben capito Torna il buon Richard Ma guarda Non è che Se stava in panchina Mi dispiaceva tanto Poteva starci Quasi quasi Poteva starci ragazzi Assolutamente Poteva starci A mio parere E vediamo come va Io ormai ho perso Le speranze Però bisogna sempre Cercare di fare il meglio Comunque ti agi Manco di testa Sa fare Manco di testa E pure basso Mamma mia Oltre scarso E anche basso Presi Per ti agi Mamma mia Che colpo di testa E beh ovviamente Loro sono in attacco E noi Col quasi O col forse Bravissimo Contropiede Mi piace questa cosa Bellissimo La palla Carl's back Proprio lui Oh Oh è fallo È fallo Mi ha dato una gomitata in faccia Manco il giallo Gli dai Ma manco il giallo Gli hai dato Questa roba Questa roba Va bene Oh Ma ti agi No Pensavo fosse fuori gioco Ti agi No Mannaggia Attenzione che ti agi Si sta svegliando Si sta ambientando Pian piano E dall'India In Inghilterra È un bel percorso Cioè Non è facile Ambientarsi Ci vuole i suoi tempi Grande giocatore Che è Ci vuole il suo tempo Per ambientarsi Giustamente Ci vuole un po' di tempo Noi lo aspetteremo Però Richards Contropiede Tabiner Tresi L'hai visto Bella La palla Meravigliosa Guarda Tsuna Ma che schifo Tsuna E no Tresi Bravissimo Comunque Io sono Io sono Un pagliaccio Perché Do la palla A ti agi Alta Quando Sappiamo benissimo Che di testa Non sa fare Palesemente Si Ma che Yoga bonito Ma dai Ma dai Ma per favore Ma per favore Questo era Strascriptato Ma Strascriptato Una volta Ho provato A fare una cosa Così Io Il giocatore Per contrastare Si è cavato Ti agi Per il gol Della Della dignità Invece no Non c'è spazio Resi Fuori Fuori gioco Cosa Ma cosa dice Ma non è vero mai Non è vero mai Ti agi Mamma mia Siamo imbarazzanti Di testa Siamo imbarazzanti No ragazzi Comunque Questa squadra È qualcosa Di veramente Aghiacciante Io non ce la posso Fa Abbiamo fatto un gol In tutto l'episodio Non so quante partite Un rigore Sbagliato Sì vabbè Però Ragazzi Ti agi Bisogna svegliarsi Qua Fai una promessa Ai tifosi E che ora Ti agi È impegnato Ad ascoltare Il suo impianto Hi-Fi Di alta gamma E non si Alleva più Ha perso Interesse Ad allenarsi Allora Suggerimenti Sempre Laddersfield È che Comunque Mi darebbe Più stipendio E sarebbe In league one Però io vorrei Fare questa stagione Qua Cioè Onestamente Non voglio Abbandonare Anche perché C'è la Carabao Che Che mi intriga E non poco Che mi intriga E non poco Ragazzi È stata una È stata una Tragedia Manco un gol Abbiamo fatto Proprio una roba Che Che insomma Schifo Levati In campionato Siamo quanti? Scusatemi Siamo ultimi Beh dai Devo dire Che sta andando Tutto Secondo i piani Ragazzi Con questa Bella visione Io vi lascio E ci becchiamo Alla prossima Sperando che Per i buonti agi Possa andare Meglio Perché per il momento L'ambientamento In terra inglese Non sta andando Affatto bene Anzi Sta andando Molto male Porca miseria Alla prossima Aguri Ciao Ciao